Questo gris è rivolto a nuovi spettatori, non quelli che l'hanno già visto, quelli che erano visto sebbene non mi fanno piacere, sono contenti, ma dobbiamo pensare a quelli nuovi che hanno un mondo completamente differente. Diciotto anni oggi sono veramente tanti, avete tutti in mano degli oggetti che allora erano quasi inusuali, il mondo cambia rapidamente e noi dobbiamo in tutti i modi, anche nel modo di porre le cose, adeguarci. È un gris, devo dire, rivolto ai giovanissimi, quindi ecco perché c'è stata questa volontà di modificare delle cose. Forse uno non si rende conto di quante piccole cambiamenti ci sono dentro questo spettacolo, perché il mondo gris è sempre gris, perché a me mi ricorda che improvvisamente Sandy muore, e che rizzo sporna veramente un bambino, no, 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 era un falso allarme e resterà un falso allarme, quindi non succede, la storia è ovvia. Sono tanti piccoli cambiamenti, tante piccole cose che io penso un pubblico nuovo, giovane, possa recepire in maniera netta. Io volevo ottenere questo sapore assolutamente, lo stile, però rinnovare un pochettino, rinfrescare un pochettino, perciò avevo chiesto un castro molto giovane, così mi stavo dietro, infatti è stato così, e poi per me gris è energia pura, perciò avevo bisogno di persone con una carica di energia in tutte le coreografie, io lo vedevo così, e infatti è stato duro, però sono molto contenta di averlo fatto. Grazie. Abbiamo fatto un lavoro, abbiamo risuonato tutto lo spettacolo e il maestro Di Paolo ha fatto una ricerca filologica sui suoi anni 70, c'era veramente molto grande, sui suoi anni, esatto, abbiamo eliminato quel, come dire, quel sapore anni 70 che un po' il film aveva portato, no? Naturalmente, soprattutto negli opening che avete sentito. Adesso, gli altri brani, quando dovrete sentirlo, a vederlo, capirete che c'è veramente un sapore e anche anni 50, come nella ricerca di Gillian per le coreografie, ma rivestito, rivisitato con un lavoro meraviglioso di Enrico Porcelli e di Carlo Pachiori, che sembra di spinta molto contemporanea. Quindi è veramente un gris fedele allo spirito che ha. Sì, esatto. Beh, dopo 18 anni solitamente si cresce, tutti si rifà un po' il look, però risulta attraente chi si rifà il look senza tradire se stessi. Quindi mi hanno chiesto di non tradire quella che era grisa, la traduzione, quella che aveva conosciuto prima, ma di riprescarla tenendola sempre abbastanza fedele allo spirito di grisa e spero di esserci lucido. La stessa cosa per i costumi, cercare di modernizzarli lasciando il sapore degli anni 50. La cosa che diceva Gillian, nel fatto che sono ritornati di moda, le grandi gonne o le gonne aderenti, i colori, i chiodi, i giubbini di pelle. Ho cercato cose moderne mischiandole con cose che hanno, almeno ho cercato, insomma di dare comunque il sapore degli anni 50 usando anche cose moderne, anche riconoscibili, proprio per rinfrescarlo e ho cercato di lavorare soprattutto sui rapporti di colore, su un'idea, anche un po' di cartoon che potrebbe essere degli anni 50 americani, con un po' di riporti, contrastati, non omogenee, anche perché dentro questa scenografia c'era bisogno comunque di macchie per poterli esaltare. Grazie.